Martedì 5 aprile, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Carissimi telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa. Occhio ai giornali che come tutte le mattine vi sfoglia i quotidiani Carlino Corriere Messaggero con le pagine della provincia di Pesaro e Urbino. Cominciamo dal santo del giorno, oggi è San Vincenzo Ferrer. Parliamo adesso di un santo, velocemente, che è vissuto nel 1350 e si trovò a vivere al tempo del grande scisma d'Occidente, quando i papi erano due e poi addirittura tre. Il sole è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 19.48. Vediamo il tempo per oggi, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi. Per domani, mercoledì 6 aprile, avremo cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con temperature senza variazione di rilievo e per giovedì più o meno stessa identica fotografia con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature senza variazione. C'è l'avvicinamento, vedete sotto nella tendenza per i prossimi giorni, l'avvicinamento di un vortice depressionario dall'Italia meridionale verso l'Italia centrale, seguito dall'ingresso sul Mediterraneo centrale di una perturbazione dall'Atlantico settentrionale che determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni del tempo, in particolare durante il fine settimana, quindi avremo tempo brutto più o meno tra sabato e domenica. Cominciamo a leggere i quotidiani e partiamo dal messaggero. Questa è la pagina principale. La pagina principale è dedicata all'accordo che c'è sulla Movida pesarese, sia alla musica fino a luna di notte nella zona del mare, in centro e in altre zone della città di Pesaro. Si parte da venerdì. C'è l'intesa, è stata raggiunta tra gli albergatori che all'inizio si dicevano preoccupati soprattutto per la musica, per i propri clienti e i gestori dei locali, per due mesi sotto controllo dei vigili. A centro pagina la ciclabile sarà doppia, il cantiere in viale della Repubblica sempre a Pesaro, poi preso il ladro con la colla sui polpastrelli per non far rilevare le impronte digitali. A Fano è stata sorpresa una banda di ladri da parte dei carabinieri nella zona di Falcineto, a Fano, dopo una razzia notturna. Uno di questi è stato arrestato, è stato preso, poi messo subito in libertà. Ed è questo che ha fatto evidentemente arrabbiare tutti quelli che sui nostri social network, sulle nostre pagine, ne hanno dette di ogni. Il mercatino rischia di costare caro i ragazzi del Grizzly, a Fano vendevano frutta e verdura senza però avere l'autorizzazione e dunque sono stati sanzionati dai vigili urbani. Dunque una stangata in termini economici che è in arrivo per questi giovani del centro autogestito che si trova a Fano, in via Colonna, nella zona dell'aeroporto di Fano. Parliamo adesso invece dei redditi perché Ancona è la più ricca, Pesaro più di Fano. Tra i capoluoghi seconda è Macerata, in fondo Ascoli è fermo, il caso Fabriano area in crisi ma dichiarazioni dei redditi alti. Il capoluogo con oltre 21 mila euro supera la media nazionale, Palmiano-Ascoli, il più povero, il comune più povero. Dunque questo è l'articolo dove i redditi sono pubblicati e c'è una fotografia di quella che è appunto la ricchezza della nostra regione a seconda poi da come la si guarda insomma. E qui la festa, la movida lunga non attende, questa è la pagina invece di Pesaro del Messaggero. Abbiamo parlato dell'accordo che è stato raggiunto tra gli albergatori e i gestori dei locali che chiaramente dovranno trovare soprattutto il buon senso per cercare di non disturbare la quiete di chi viene a Pesaro per il mare e poi magari la sera non far tardi e quindi riposarsi per il giorno dopo. Dalla palla di Pomodoro ai marciapiedi al mare il Regno delle Ruspe. A Pesaro praticamente tutto un cantiere per quanto riguarda la viabilità, i lavori pubblici e quant'altro. C'è anche la ciclabile, vedete di cui parla il messaggero questa mattina, ciclabile alla Baia Flaminia. Si va avanti, la sovrintendenza è d'accordo. L'altra pagina del messaggero, carezze hard e film pornografici. La ragazzina rievoca le molestie del biciclettaio. È una vicenda torbida, brutta, che è avvenuta in una piazzetta di Pesaro. Ieri c'è stato l'incontro, l'incidente probatorio, fiume che è durato dalle 11 e mezzo del mattino fino alle 16 e 30. Si è svolto nell'aula per l'audizione protetta dei minori nel Tribunale di Pesaro. Non è stato semplice, parliamo di una ragazzina di 14 anni, pesarese, 13enne all'epoca dei fatti. Più volte si è bloccata, Paurena si è messa a piangere. Ha raccontato di quello che faceva il biciclettaio quarantenne del centro storico di Pesaro. Le accuse per lui sono di violenza sessuale, atti sessuali e corruzioni di minorenne. Stordito e ferito non è riuscito a chiedere aiuto. La tragedia di Luigi Rizzi, morto per ipotermia, per freddo, dopo essere rimasto tutta la notte nelle acque gelide del torrente Tarugolo. Lo chiamavano il gigante buono per la sua imponenza e per la sua generosità verso gli altri. Domani mattina ci saranno i suoi funerali nella chiesa di Sant'Anna del Furlo. Era padre di tre figli. Il prefetto chiama sindaco e provincia sulla voragine che divide in due il comune di Orciano di Pesaro. All'incontro per superare lo stalo dei lavori parteciperà anche Marche Multiservizi. Poi sotto si parla dei comuni che andranno al voto il prossimo giugno per eleggere il nuovo sindaco. Esordio 5 Stelle, Verdi Speranze per la Lega Nord, mentre il PD prepara la difesa di Mondolfo e di Fossombrone. Nelle foto vedete Chiara Billi di Fossombrone, Vico della Lega, sempre di Fossombrone. Poi Gasperi del centro-sinistra a Gradare e Berluti dei 5 Stelle a Mondolfo. L'altra pagina del messaggero è quella di Fano, firme per il Santa Croce. L'ospedale e il nosocomio fanese si mobilita anche l'entroterra. Il comitato promotore sta valutando di allargare l'iniziativa sul territorio. Il vice sindaco, Marcheggiani, dice attenzione senza il nuovo ospedale però si perde la sanità. La sottoscrizione per lanciare il referendum è a un passo dalla soglia minima delle 2.600 adesioni. I socialisti a Fano festeggiano Biettini, 80 anni e 63 iscrizioni al partito. Enrico Bettini domani è il compleanno dello storico socialista che festeggia tra l'altro anche i 63 anni di iscrizione al partito. Già segretario provinciale, consigliere e assessore comunale a Fano. Biettini si è sempre impegnato per una politica di autonomia socialista con l'obiettivo di realizzare un grande unico partito di sinistra sia in Italia sia in Europa, scrive il messaggero questa mattina. Di cui, nella pagina quella fanese, a fondo pagina c'è anche un articolo sul cimitero off limits per un disabile. Mio marito non può far visita alle tombe dei genitori se non è accompagnato da qualcuno che lo sorregga. I pescatori invece sono in allarme per le trivelle della Croazia che presto in Adriatico sarà in Adriatico e quindi l'associazione armatori della Pesca di Fano ha colto con preoccupazione il divieto notificato agli armatori del comando generale eccetera eccetera. Ravenna bla 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 e questo è comunque il titolo e la preoccupazione. Andiamo a vedere adesso il Corriere Adriatico, c'è l'accordo, c'è ancora margine per Fosso Segiore, l'ospedale che nella delibera della giunta regionale è previsto appunto che venga realizzato tra Fano e Pesaro nell'area di Fosso Segiore. Parla Gambini il sindaco di Urbino e presidente della conferenza dei sindaci il quale appunto Gambini dice confido nella conferenza di tutti i sindaci ho un progetto che potrebbe essere la soluzione dice lui. Accordo raggiunto nei locali musica dunque a Pesaro fino a luna di notte si partirà da questo fine settimana contestualmente ai controlli. Delle Noci l'assessore dice il 30 giugno poi faremo un bilancio e vedremo se l'iniziativa potrà andare avanti. Ladri all'autofficina, spariti i computer con i programmi delle lavorazioni, il titolare dice non solo 20 mila euro di bottino ma siamo anche bloccati senza computer, insomma ormai non si fa più nulla. Nella stessa nottata depredati i distributori di snack e bibite alla palestra, chef e rubata anche un'automobile. Poi la pagina di Pesaro e Urbino, ragazzino ruba, siamo a Piobbico, un furgone poi si schianta una notte brava di tre minorenni di Cagli denunciati per furto e danneggiamenti. I tre ragazzini intorno alle due e mezzo invece di ritornare o rifarsi portare a casa hanno preferito avventurarsi in quella che si è rivelata poi una pericolosa bravata. L'altra pagina, quella di Fano invece, è per la situazione e la protesta contro la scarsità di mezzi e di personale della polizia. Il segretario nazionale del sindacato, il SAP, confuto alle rassicurazioni al Fano che nei giorni scorsi è venuto a Fano. Anche le pistole sono vecchie di quasi 40 anni, dicono quelli del sindacato, segnalate carenze per vetture, caschi, giubbotte, antiproiettile, formazione e aggiornamento. A Fano una sola pattuglia in servizio non copre sempre le 24 ore e per la cancelleria 100 euro all'anno soltanto sono quelli disponibili. Minardi garantisce invece la lealtà del suo partito, il PD su Fosso 6 ore, Ceriscioli vuole costruire l'ospedale unico nel sito più contestato. Il piano B non c'è ma l'opposizione ancora non lo ha capito. L'operazione è già partita, la mozione approvata ha una funzione diplomatica. Punte naif nel dibattito, si conferma il controllo del partito di Fano da parte del consigliere dal doppio incarico, nessun dissidente. L'altra pagina del Corriere è quella di sempre di Fano, anche qui la notizia dell'intercettazione di una banda di ladri. L'autista è un rumeno di 36 anni, l'unico che è stato acciuffato dai carabinieri, gli altri tre si sono dileguati tra i campi di Falcineto, quattro in fuga, dicevo però, insomma, uno di questi è stato preso, dicevo i carabinieri bloccano nella notte l'autista, poi denunciato, messo a segno un furto di rame a Falcineto. Poi, sempre dalla pagina di Fano, il bavaglio sul controllo consigliare, tutte le minoranze, salvo la tua Fano, denunciano l'ostracismo del centro-sinistra. Ancora dal Corriere c'è, siamo a Mondolfo, c'è chi pensa al quinto candidato, addirittura un paesino come Mondolfo che già probabilmente non riesce a trovare il candidato giusto, quindi si pensa al quinto candidato. Socialisti sul piede di guerra chiedono al PD almeno le primarie di coalizione, dopo Mario Silvestrini, Giancarlo Loccarini e Giovanni Berluti. Venerdì si presenta Nicola Barbieri. L'altra pagina di Senigallia del Corriere Adriatico ritrova il borsello, i soldi, grazie a due extracomunitari, e quindi cose che dovrebbero essere, come dico, normali, ma in realtà fanno notizia. Due extracomunitari, quindi bravi, trovano un borsello, pieno di soldi e carte di credito, dimenticate al Caffè Italia, e consegnano questo borsello al barista. E' questo quello che è successo a Senigallia. Poi a centro pagina, vedete, il titolo invece è per la sistemazione del lungomare, in vista anche dell'inizio della stagione estiva. E' l'ora dei cambiamenti, mozione sul prolungamento della pista ciclabile, chiuso per due giorni in sottopasso di traversa Cesano. Adesso il Carlino, il Carlino di Fano, la Croazia trivella e sbarra il passaggio, allarme della marineria fanese, minacciata la pesca d'altura in Adriatico. Questa è la notizia in evidenza, c'è questo progetto della Croazia che ha dichiarato un ampio tratto del mare Adriatico, compreso tra Ravenna e Listria, zona economica esclusiva, con l'obiettivo di installare trivelle per la ricerca di idrocarburi. Lo stop agli armatori tramite le capitanerie di Porto, è stato notificato il divieto di pesca e di passaggio, pena azioni repressive, cioè il fermo dei pescherecci da parte delle autorità croate. E sotto, verso il referendum, un reticolo di piattaforme in mare, ecco la mappa, nessuna delle strutture sul nostro territorio rientra nel quesito. La centrale di Fano controlla otto impianti, davanti alle coste pesaresi ce ne sono ben tre. Domani l'addio a Luigi Rizzi, la magistratura ha dato il nulla a osta alle esequie previste a Sant'Anna del Furlo, i funerali domani mattina alle 11. Per quest'uomo ferito con l'auto giù da un ponte durante la notte tra sabato e domenica, ma ritrovato solo il mattino dopo in un torrente di via Bella Guardia, a pochi chilometri dalla sua casa a Sant'Anna. E poi si festeggiano i compleanni a Sant'Angelo in Vado, compleanni record, Sant'Angelo in Vado e Cantiano festeggiano due donne che sono nel cuore di tutti. Luigia Angelini, ecco la cerchiamo adesso, e l'audemia Giacomini, tutte e due soffiano appunto su cento candeline. Complimenti davvero e auguri. Banda di ladri in azione a Falcineto, uno dei ladri aveva una lama di 19 centimetri denunciato per porto illegale d'armi e poi rilasciato. Tam tam sui social network, il residente si è accorto degli individui sospetti e ha segnalato le loro auto ed erano circa le 5 del mattino. Poi la proloco di Fano che ha fatto un bilancio della sua attività con il presidente Tien Lucarelli, lo vedete nella fotografia, che ha svelato i prossimi appuntamenti tra conferme e novità, da Fanogeo al Natale, un anno con la proloco. Questo è l'altro articolo. Pronto soccorso invece, quello di Fano, pronto soccorso critiche ingiuste, parla il responsabile del reparto, percezione sbagliata, lo dicono i dati, dalla lavagna elettronica agli orari di visita, ecco tutte le novità. 36.000 accessi nel 2015, solo 14 proteste, attese diminuite fino a 45 minuti. Ed era l'ultima notizia della nostra segna stampa, Occhio ai giornali torna domani mattina come sempre in diretta alle 7.30, questa sera invece alle 20.30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. A voi tutti gli auguri di una buona giornata, arrivederci.